Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata organizzata dalla Corsi, io saluto il presidente della Corsi che non vedo più dove sia, eccolo là, e a nome della Corsi vi do il benvenuto a questa serata, ringrazio prima di tutto i nostri ospiti politici che attualmente siedono in prima fila, i nostri ospiti RSI che poi la nostra moderatrice che ringrazio ancora più di tutti gli altri per la sua partecipazione e la sua presenza. Ringrazio anche per la presenza e soprattutto il contributo che darà questa sera Oscar Mazzoleni con lo studio dell'Osservatorio di politica regionale di Lausanna che ci inquadrerà il tema di questa sera prima dell'inizio del dibattito. Questa sera parliamo di politica alla RSI, politica che come vedremo appunto dai dati raccolti è percepita come faziosa da un buon numero di radio teleascoltatori. Allora vogliamo capire, grazie ai dati e all'elaborazione di questi dati fatti dall'osservatorio, perché ha questa, se mi permettete, cattiva fama la politica alla RSI, ma più in generale non solo alla RSI e quindi che cosa soprattutto possiamo fare per migliorare questa cattiva fama e farla diventare decisamente migliore. Per noi della Corsis questi, come questa sera, sono dei dibattiti molto importanti perché rappresentano dei momenti privilegiati per mettere in contatto la società della Svizzera italiana con l'ente pubblico radio televisivo che è la RSI, svolgendo un ruolo che noi definiamo di ponte tra il territorio e l'azienda proprio per permettere un dialogo, un confronto e soprattutto la ricerca di soluzioni utili per migliorare da un lato il servizio pubblico e dall'altra la partecipazione della popolazione e del territorio della Svizzera italiana a, come dire, sostenere la RSI come ente importante per il nostro territorio e la nostra realtà. Noi sappiamo che la Svizzera italiana è un unicum in cui la politica ha uno spazio che altrove non ha e che questo può essere un vantaggio, può essere uno svantaggio, anche di questo questa sera penso che avremo modo di parlare. Io devo, come detto, ringraziare ringraziare i politici presenti, un scuso anche se diciamo una defezione voluta un rappresentante della Lega perché la Lega non ha ritenuto di voler partecipare in modo ufficiale a questo dibattito pur avendo in sala un deputato della Lega che ringrazio di cuore per la sua presenza e che invito evidentemente a dare un contributo alla discussione e vi ricordo semplicemente che la Corsi è una cooperativa che rappresenta il territorio della Svizzera italiana ed essendo una cooperativa si fonda sui suoi soci e quindi essere socio della Corsi vuol dire in qualche modo essere questo ponte, contribuire ad essere un ponte con il territorio e quindi sostanzialmente facendo una buona campagna di acquisti da qui sarebbe bene non uscire se non abbonandosi, associandosi scusate, alla Corsi e credo che subito fuori avete modo di trovare il necessario per farlo. Io vi ringrazio, vi annuncio già che probabilmente porrò qualche domanda e vi do subito la parola e grazie ancora alla nostra moderatrice. Grazie Anna Viscosa adesso credo che tocca il filmato ecco è libero qua? No perché orario d'aperitivo c'è sempre tanta gente Bernasconi ma sei serio? Frontaliere lei? Dalla faccia parrebbe? Sta zitto un attimo che guardiamo a telegiornale. Eh Johnny, ma pensi su la tele per così. Questo che canale è? Questa qui è la televisione svizzera francese. E questo qua che canale è invece? Televisione svizzera tedesca. Johnny la troviamo la RSI o hai bisogno del navigatore? Ah ma sì ma questa chi la conosce? La RSI, la RSI la vediamo anche noi osmate carate. Certo che è svizzera tedesca, è svizzera francese, è svizzera italiana. Ma che è già un paese complicato è la svizzera il vostro... Ecco lega il giornale che mi... Così. È vero, la Svizzera è un paese complesso, quattro lingue e quattro culture diverse per appena 8 milioni di abitanti. E la legge stabilisce che ogni cittadino che abiti a Brutisellen oppure a Porantrui, a Giumaglio o a Badragaz ha diritto a un'offerta di programmi equivalente. Equivalente in che senso? Oh, verrà. Ogni regione linguistica del nostro paese ha diritto a un'offerta radiotelevisiva equivalente, nel senso della quantità e della qualità. Per esempio nella Svizzera italiana vivono poco più di 300 mila persone eppure c'è una radiotelevisione importante come la RSI e questo è possibile grazie al mandato di servizio pubblico attribuito alla SSR, SRD e Società Svizzera di Radiotelevisione. Servizio pubblico, cosa significa? Notte fonda, eh? Servizio pubblico vuol dire al servizio del pubblico, vuol dire una radiotelevisione imparziale e indipendente al servizio del cittadino che informa, fa cultura e intrattiene con senso di responsabilità e professionalità. Tutto questo è possibile grazie alla solidarietà tra maggioranza e minoranze che è uno dei pilastri del federalismo svizzero. Servizio pubblico ce l'ho, eh? Ma sta storia delle minoranze mi manca. Te Bernasconi l'hai capita? Facciamo un esempio. La SSR è finanziata dalla tassa di ricezione che è raccolta a livello nazionale e che finanzia anche radio e tv private. La parte del canone che va alla SSR viene poi suddivisa fra le diverse regioni svizzere, ma non in base a ciò che si è versato in ciascuna regione, ma tenendo conto di quanto costa produrre e trasmettere i programmi. Nel 2015 gli svizzeri italiani hanno versato in tasse di ricezione circa 58 milioni di franchi, ma alla RSI sono andati 234 milioni. 58 milioni non sarebbero bastati per garantire programmi equivalenti a quelli della Svizzera tedesca o francese. Offrire un servizio pubblico di qualità in quattro lingue nazionali costa. Se la Svizzera avesse una sola lingua e i programmi andassero in onda in un'unica lingua, i costi si ridurrebbero del 42%. E quindi, invece di 451 franchi come oggi, si pagherebbero 262 franchi di tasse di ricezione. Ho capito. Ma quanto ha detto che riceve la RSI ogni anno? 230 milioni. Mi sembrano un sacco di soldi, eh. Per dire. Beh, dipende dai punti di vista. Prendiamo la TV, per esempio. A fare concorrenza alla RSI sono soprattutto le TV italiane. Rai e Mediaset. Il budget annuale dell'intera RSI è di 234 milioni. Tanti, vero? Ma sai quant'è il budget di un anno di Mediaset? 2554 milioni. E di un anno della Rai? 2652 milioni. Eppure la RSI riesce comunque a superare negli ascolti sia le reti Rai che quelle Mediaset. chiaro che con una concorrenza del genere i soldi devi spenderli bene per stare sul mercato. E com'è che li spende la RSI questi soldi? Quella Bernat, se di se dà, eh. Il budget RSI viene usato per finanziare le dotazioni tecniche, gli studi e per i collaboratori. Due canali TV, tre reti radio e un'offerta multimediale richiedono tanto lavoro. Alla RSI i collaboratori sono un migliaio e svolgono qualcosa come 60 mestieri diversi. Ma 60 mestieri dove? Cioè, capito, ci sono i giornalisti, i cameraman, i presentatori, i DJ, quelli lì della radio. Ma gli altri 56 dove è che sono? Eh? Giornalista, cameraman, presentatore e animatore sono solo alcune delle professioni radiotelevisive. Alla RSI lavorano registi, tecnici del suono, montatori, grafici, scenografi, media manager, infografici, operatori multimediali, videomaker e tanti altri ancora. Stop! Buona! Senza la RSI, diverse professioni specialistiche, sarebbe molto difficile svolgerle nella Svizzera italiana. E invece, in tanti, hanno la possibilità di lavorare qui e di affermarsi professionalmente. Insomma, la RSI è una presenza importante per la Svizzera italiana. Ti capi, Azzurro? Qualità, ma anche quantità. Anche perché un'azienda come la RSI ha un impatto finanziario non indifferente sul territorio, genera flussi monetari importanti. Per esempio, nel 2015, la radiotelevisione ha acquistato da aziende della Svizzera italiana beni e servizi per 42 milioni di franchi. Un bel contributo all'economia locale. Come ha fatto finire dentro la televisione quello lì? Vai con lo slogan! Eh? RSI! Parte del tuo mondo! Eh? Allora, pronto Oscar Mazzoleni a riassumerci questo studio? Buonasera. Questa sera sono qui presente per esporvi alcuni risultati di quello che è stato l'approfondimento sull'inchiesta svolta in occasione del voto sul canone dell'anno scorso. La Corsi ci ha chiesto all'Università di Lozano, osservatorio, che coordino, di approfondire l'aspetto della tendenziosità, del modo in cui la politica viene presentata al pubblico. In quel questionario che è stato distribuito ai cittadini cinesi del Grigione Italiano nel settembre 2015, un campione di circa 1800 cittadini, è stata posta anche la domanda ma che cosa pensano i cittadini di come è presentata la politica. Un'affermazione nel questionario riguardava proprio questo aspetto. La politica è spesso presentata in modo tendenzioso. Le risposte a questa domanda hanno forse colpito alcuni, forse meno altri, ma certamente hanno dato l'occasione per un approfondimento che stasera vi presentiamo. Un approfondimento che mostra come una maggioranza dei cittadini che hanno risposto a questo questionario hanno ritenuto di dire che in effetti la politica è spesso presentata in modo abbastanza d'accordo, molto d'accordo, sull'affermazione che la politica alla RSI è spesso presentata in modo tendenzioso. Osserviamo però anche che circa il 21% non ha un'opinione su questa opinione, ecco su questo aspetto. Quindi da qui l'approfondimento per capire meglio chi sono coloro che esprimono queste opinioni o questa opinione, questa criticità, questa valutazione critica nei confronti della RSI in particolare. Ripeto, di come la politica è presentata, ripeto, da come la politica è presentata all'RSI. Non si vuole ancora dire, e vedrete perché sottolineo questo punto, che la politica all'RSI è tendenziosa. Non è la stessa cosa, ma come è presentata. Quindi questo è un punto chiave. Qui osservate molto schematicamente quali sono le tendenze di chi tendenzialmente ritiene poco o nulla tendenziosa l'offerta della RSI sulla politica. Vedete molto sinteticamente il fruitore regolare dei canali TV e radio RSI ritiene che non sia tendenziosa, mentre vediamo che in altri il fruitore occasionale tende a non avere un'opinione. Vediamo il lavoratore dipendente piuttosto poco o nulla tendenziosa, mentre vediamo la tendenziosità abbastanza molto tendenziosa. Giovani, anziani, formazione professionale tecnica abbastanza tendenziosa, vediamo anche una concentrazione. non vuol dire che tutti sono nel distretto di Belinzona e Riviera, vuol dire che nel distretto di Riviera e Belinzona c'è una concentrazione di persone che ritengono che la presentazione della politica è molto tendenziosa, più alta che in altre regioni del cantone. E poi vediamo appunto uomo. Non vuol dire che tutti gli uomini sono di questa idea, semplicemente c'è una concentrazione maggiore rispetto alle donne, di coloro che ritengono che sia tendenziosa. Questo è semplicemente uno schema molto semplice che vi permette un po' di vedere che non c'è un'omogeneità dal punto di vista sociodemografico di formazione appunto in relazione a questa opinione. Forse è più interessante valutare un punto che verrà sicuramente poi discusso nel dibattito successivo e la domanda è in che misura gli elettori di diversi partiti ritengono che questa tendenziosità sia effettivamente tale. Come vedete la tabella permette di vedere come la concentrazione più alta di presentazione molto tendenziosa e la ritroviamo negli elettori della Lega, cioè la metà degli elettori della Lega ritengono che la presentazione della politica all'RSI è molto tendenziosa. Forse colpisce magari anche però il fatto che sulla abbastanza tendenziosa troviamo anche altri partiti, troviamo il PPD, troviamo l'Udc, troviamo anche il PS. Vedete che è vero che c'è una concentrazione maggiore, Udc e Lega, di coloro che ritengono molto tendenziosa la politica, però anche in altri partiti di centro e di sinistra questa percezione, questa valutazione è pure presente anche in modo piuttosto rilevante. Quindi sull'abbastanza tendenzioso ci sono anche altri partiti. Il PPD è un 60% PLR per la somma. Quindi su questo punto effettivamente si potrà riflettere e si potrà discutere mostrando appunto come non c'è un'omogeneità, non c'è tutto a sinistra o tutto a destra questa percezione. La domanda quindi è di chiedersi a questo punto qual è il problema? È un problema perché i giornalisti sono tendenziosi oppure c'è una corresponsabilità tra giornalisti e politici? Perché la politica quando è presentata alla radio o alla televisione è una politica che viene trasmessa, è vero, all'RSI, ma i protagonisti sono sia i giornalisti sia i politici. E quindi ci siamo interrogati su questo punto chiedendoci in che misura la fiducia dei politici e dei giornalisti sia in qualche modo collegabile, ricollegabile a questa percezione negativa del modo in cui l'RSI presenta la politica. E osserviamo che se guardiamo semplicemente la fiducia nei giornalisti e nei politici cantonali tra chi ritiene la presentazione della politica molto tendenziosa, quindi questo sotto insieme, cioè solo coloro che ritengono una politica molto tendenziosa, all'interno di questo sotto insieme osserviamo che esiste una sorta di osmosi, una forte convergenza, in sostanza chi ritiene che di avere poca fiducia sia nei giornalisti sia nei politici, effettivamente ha più probabilità di essere tra coloro che ritengono la politica tendenziosa presentata all'RSI. Quindi c'è un legame molto stretto, in altre parole il giudizio sulla tendenziosità non sembra unicamente ascrivibile al ruolo dei giornalisti, sembrerebbe, sembrerebbe, ma ha una percezione di distacco che riguarda tutti gli addetti ai lavori, o almeno questi addetti ai lavori. È un ragionamento, diciamo, su cui va riflettuto e evidentemente ci si chiede ma allora che cosa sta dietro? Sta dietro anche un altro aspetto, il fatto che in generale coloro che hanno un giudizio negativo sul modo in cui l'RSI presenta la politica hanno anche un giudizio negativo sulla politica in genere. Non è un problema apparentemente solo di RSI, ma anche, come dire, un giudizio diffuso sul fatto, per esempio, che si ritenga che gli uomini politici non si interessano di quello che pensa la gente, che la gente come me non ha voce in capitolo su quello che fa il governo, eccetera. Quindi c'è una disaffezione e sfiducia dietro questo giudizio che va effettivamente rilevato. E l'altro punto, perché la tendenzialità della politica ci interessa qui anche in relazione a un'altra domanda, cioè sul giudizio riguardante l'informazione all'RSI. Quando si parla di politica all'RSI uno può dire sì, stiamo parlando di che cosa? Di 60 minuti di trasmissioni, diciamo, specialistiche, oppure parliamo anche di TG, di informazione, perché informazione fa passare anche la politica. E quindi la domanda può effettivamente sorgere. E quindi ci siamo chiesti in che modo questo giudizio sulla tendenzialità della politica, della presentazione della politica, sia ricollegabile al giudizio più o meno negativo sull'informazione all'RSI. E quello che osserviamo è che c'è poco legame. C'è poco legame, in sostanza, anche perché quasi il 90% dei partecipanti ritiene che i programmi di informazione dell'RSI siano abbastanza molto equilibrati. E quindi ritroviamo questo meccanismo, questo legame, un legame piuttosto debole. Vedete qui l'informazione è abbastanza molto equilibrata. Potete abbastanza facilmente intuire che se da un lato avete una maggioranza che ritiene che la politica è tendenziosamente presentata all'RSI, e dall'altro invece una parte di queste stesse persone che ritiene che invece l'informazione è equilibrata, il legame è piuttosto limitato. Se però andiamo un po' a vedere più concretamente questi legami, osserviamo che effettivamente chi ritiene che l'informazione dell'RSI è molto equilibrata e la politica è abbastanza tendenziosa è un insieme, un sotto insieme del 28%. Chi ritiene che l'offerta dell'RSI è abbastanza equilibrata e politica abbastanza tendenziosa è un insieme del 26%. Come vedete le due cose vanno insieme. Non è perché sia un giudizio sulla politica presentata all'RSI negativo che allora si dà un giudizio automaticamente sull'informazione all'RSI. C'è nel pubblico, nei cittadini, una capacità abbastanza evidente di distinguere questi tipi di offerte, almeno nell'opinione che emerge in una parte preponderante del pubblico. E osserviamo anche che chi ritiene l'offerta molto equilibrata, molto equilibrata e la politica molto tendenziosa, è un insieme, solo il 10%, in cui l'elettore PPD e leghista sono particolarmente concentrati. Quindi sono due giudizi che possono apparire molto contraddittori ma che semplicemente vanno considerati nel fatto che il pubblico ritiene che quando si parla di politica all'RSI non si parla di informazione all'RSI. Forse questo ai politici può colpire, magari anche ai giornalisti, però è quanto si osserva in questa inchiesta. Chiudo la mia breve presentazione, riassumendo i punti chiave. Due terzi degli intervistati ritengono che la politica dell'RSI è presentata in modo abbastanza molto tendenzioso. Il tema è quindi evidentemente politicizzato, nel senso che non in modo omogeneo i vari elettori di vari partiti esprimono questo giudizio. Nella Lega e nell'Udc c'è una maggiore concentrazione di coloro che ritengono la RSI come capacità di presentare la politica piuttosto tendenziosa, ma non solo nell'elettorato Lega-Udc, la percezione più netta di tendenziosità è conducibile ad una scarsa fiducia sia nei giornalisti sia nei politici, che tale percezione denota inoltre una straneità, una disaffezione ai confronti della politica, dei politici e del governo in generale, cioè è quella fascia di popolazione che si stiene in qualche modo a distanza dalla politica, e qui potremmo concludere che il giudizio di tendenziosità sembra ascrivibile legato ad una percezione di autoreferenzialità, cioè il mondo degli addetti lavori, quelli che si parlano addosso, per usare un'espressione così un po' colorita, difficoltà forse di capire i codici della politica quando gli addetti lavori discutono di politica, e forse questo è un punto su cui bisogna riflettere quando si pensa che tendenziosità voglia dire semplicemente sinistra o destra, forse nel pubblico appunto c'è qualcosa d'altro e ci sono anche logiche distinte tra quello che può essere il modo di intendere tendenziosità della politica nel pubblico e quello che il pubblico ritiene essere l'informazione, giudizi diversi, l'informazione considerata complessivamente equilibrata, almeno secondo questa indagine, mentre il modo di presentare la politica tutt'altro che equilibrata. Vi ringrazio. Grazie Oscar Mazzoleni. Allora, quando sono stata contattata dalla Corsi per animare questo dibattito, ho fatto un po' un giro d'orizzonte con diverse persone presenti qui stasera, però anche nel mio quotidiano da corrispondente in Ticino, ogni volta che avevo un, tra virgolette, opinion leader, qualcuno che si esprime nel suo lavoro, che è spesso a contatto con la politica e con i giornalisti, ho interpellato questa persona su alcune conclusioni dello studio. E la prima cosa che mi ha sorpreso veramente è che è un fossato, è un fossato, è giusto fossato? Sì, mi scuso per il mio italiano, tra l'altro ogni tanto c'è forse qualche strana parola o in francese che salterà fuori, vi prego di scusarmi. Quindi quello che mi ha sorpreso come prima cosa è questo divario, fossato, gap, come lo vogliamo chiamare, tra la percezione della tendenziosità come risalta dallo studio e invece la maggior parte delle persone di questi, tra virgolette, addetti ai lavori con chi ero in contatto dicevano, no, in fondo, no, la RSI non è tendenziosa. Quindi abbiamo già lì un primo constat, come si dice Oscar? Un constat, un constatazione, che sarebbe interessante cercare di capire, perché già lì sorge un grande punto di domanda, nella percezione della politica, nella percezione del mondo politico, nella percezione di cos'è informazione e cosa non è considerato come informazione, questa constatazione, Oscar, forse... Sì, forse è importante ribadire un punto, cioè esiste da un lato l'idea che, almeno da quello che sembra da questo sondaggio, da questa indagine, che la tendenziosità sia ascrivibile a una dimensione sinistra-destra o ideologica o, diciamo, di appartenenza ideologica da parte di chi esprime, perché abbiamo visto che, diciamo, gli elettori di diversi partiti comunque hanno opinioni critiche abbastanza evidenti. E accanto a questo, accanto a questo aspetto, diciamo, più ideologico, c'è un mondo, un pubblico, che ritiene tendenziosa la politica per altre ragioni, per altre ragioni, che esulano da questa dimensione ideologica, ma che è legata piuttosto a questa estranetà, a questo mondo politico che, appunto, ripeto, l'espressione si parla addosso, che forse utilizza un linguaggio che non è abbastanza chiaro, comprensibile, forse che la domanda che ci si può porre, ma qui non voglio effettivamente andare al di là di quello che è il mio ruolo di questa sera, chiedersi se alla RSI quando si parla di politica ci sono dei format sufficientemente chiari per un pubblico che non è addentro alle cose politiche e quindi forse ci vorrebbero magari degli altri format che consentano di fornire gli strumenti, diciamo, i grimaldelli, anche per capire meglio la politica, una politica forse vista come, appunto, un universo estraneo che litiga, che litiga, perché sappiamo quanto la parola litigiosità viene spesso usata per giudicare la politica ticinese e, come dire, forse che questi format esistenti riflettono in modo troppo evidente questa litigiosità, si può avere opinioni diverse, però l'indagine sembra andare un po' in questa direzione considerando almeno una parte di coloro che hanno risposto in questo modo. Vorrei voltarmi verso Reto Ceschi. Sì, scusa. Un po' errori da apprendista moderatrice, scusatemi. Ospiti che ringrazio. Allora, comincio alla mia sinistra, sono tutti alla mia sinistra, Sergio Morisoli, Paolo Beltraminelli, Alex Farinelli e Ivo Duris. però vorrei tornare a Reto Ceschi un po' per capire se è una sorpresa questa percezione del divario che dicevo prima il pubblico ha una percezione e i politici un'altra. È una sorpresa, in fondo, o dà già un'idea del divario cioè i politici e l'aeresi in una torre d'avorio e il pubblico in un altro campo. Buonasera a tutti. Allora, potrei cavarmela dicendo che, visto che due settimane fa l'elettorato americano aveva dimostrato che l'elettorato americano ha votato contro l'elite leggendo Trump, qui una parte degli interpellati considera probabilmente un'elite che fa degli inciuci che sta a braccetto il giornalismo in questo caso il RSI e la politica ma credo che questo non sia potrebbe essere suggestiva come ipotesi ma credo che questo non sia scusate non sia la realtà. I dati del sondaggio di marzo prima naturalmente mi avevano colpito ci avevano colpito perché francamente nel lavoro che facciamo quotidianamente credo che teniamo ben presente il nostro ruolo l'attenzione all'equilibrio all'indipendenza al fair play a cercare di essere rispettosi di questi valori per essere credibili nei confronti del pubblico commettendo errori ogni tanto e di questi dobbiamo essere in grado di rendersene conto e di poi correggerli ma evidentemente non c'è una strategia come dire costruiamo presentiamo la politica o l'informazione in modo tenzenzioso così conquistiamo più pubblico così diventiamo più interessanti non esiste sarebbe come segare il ramo sul quale siamo seduti quello che mi colpisce che mi ha colpito allora e mi ha colpito anche questa sera è questa separazione fra l'informazione e la politica mi ha colpito nei dati nel senso che l'informazione sono responsabile del dipartimento di informazione potrei dire dei dati impressionanti di in termini di di apprezzamento ampiamente sopra l'80% poi faccio anche un programma settimanale dove la politica non di politica ma dove la politica è abbastanza presente e dico beh a lunedì sera sbaglio tutto perché perché davvero racconto cioè mi interfaccio con il pubblico o ci interfacciamo col pubblico in modo totalmente sbagliato credo che questa separazione sia un po' da approfondire perché noi molto spesso le critiche maggiori che riceviamo rispetto al a come raccontiamo le cose sono nei programmi classici di informazione cioè nel telegiornale nel quotidiano nelle croniche della Sizzera nel radiogiornale magari in modem che è un appuntamento quotidiano di primo approfondimento quindi le critiche più forti le riceviamo rispetto al diciamo alla trattazione quotidiana i programmi di politica che interessano meno evidentemente dei programmi di informazione quotidiani sono globalmente abbastanza poco criticati perché sono meno seguiti ma perché forse e questo potrebbe essere un aggancio alle riflessioni che vengono fatte nel sondaggio sono considerate fatte per una certa cerchia di pubblico di partecipanti e di giornalisti che li conducono quindi l'impressione che la politica in un paese dove vota difficilmente più del 50% della popolazione c'è comunque una buona metà che probabilmente se non vota non tutto avrà un atteggiamento critico nei confronti della politica ma una parte rilevante non vota perché non si sente servita dal buffet politico che c'è attualmente sul mercato quindi dai vari partiti eccetera e non si sente servita dai programmi dai format diceva Mazzio Leni che offriamo attualmente ne vuole di più non sono in grado di dirlo io non credo che ne voglia di più ne vuole di diversi è possibile rispetto a quello che facciamo quindi questo tipo di ragionamento dal sondaggio raccolgo e raccogliamo molti stimoli per cercare di capire anche come cambiare la messa in scena con tutto il rispetto la rappresentazione del confronto politico nei media in radio in televisione in particolare allora appunto questo buffet politico è molto ricco persino troppo ricco è anche qualcosa che ho sentito in varie occasioni siamo in un cantone piccolo molto politizzato aiutatemi politizzato voilà quella roba lì eppure c'è un meno interesse che per l'informazione stretta pura o altri programmi Alex Farinelli come come lo sente lei come politico lei mi ha detto che è chiamata molto spesso a intervenire per rappresentare il suo il suo partito il PLR nei dibattiti ce n'è troppa c'è troppa carne al fuoco c'è troppe occasioni c'è troppo c'è troppa materia bisognerebbe ristringere un po' buonasera a tutti innanzitutto diciamo che il fatto che come politici a livello cantonale se funziona non funziona funziona si funziona come politici a livello cantonale è che siamo molto sollecitati ho avuto modo di dirlo in un'altra sede di incontro con la Corsi ritengo di sì cioè noi siamo veramente un'eccezione io stesso ho detto mi farebbe piacere che durante soprattutto durante l'anno quando non ci sono gli appuntamenti elettorali o non ci sono dei temi strettamente cantonali si cercasse anche di coinvolgere delle persone che vengano da altre parti del paese che portano possano portare anche un altro tipo di sensibilità e di visione perché è chiaro che noi essendo da un lato cantone ma dall'altro minoranza linguistica del paese tendiamo un po' a chiuderci su noi stessi dopo di politica ce n'è molta perché si diceva che magari non si seguono tanto le trasmissioni ma guardate che ogni appuntamento informativo radiofonico televisivo ha dentro una bella fetta di politica quindi i cittadini la seguono e ne sono sensibili io penso che il sondaggio diciamo soffra un po' del fatto che il ticinese anche se non vota comunque la politica la sente abbastanza visceralmente e sapete è un po' come quando voi guardate la vostra squadra di calcio se l'arbitro fischia a favore della vostra squadra tendenzialmente direte che ha fatto bene che era giusto che il fallo era dovuto se fischia a favore della squadra avversaria si ha un certo tipo di pregiudizio insomma il giudizio è un po' più critico e penso che senza generalizzare perché poi è chiaro che di informazione ce n'è tanta a volte fatta bene a volte meno bene però credo che in generale ci sia anche un'ipersensibilità delle persone cioè quando un servizio va nella direzione del mio pensiero adesso dico del mio come cittadino lo reputo un servizio equilibrato quando magari va nella direzione di un pensiero che io non condivido tendenzialmente sarò un po' più severo e dico ma insomma questa RSI è tendenziosa e poi sapete che la memoria è abbastanza selettiva ci ricordiamo di più quello che ci ha fatto dispiacere di quello che ci ha fatto piacere quindi io questo dato lo interpreto un po' così ma questo piacere e dispiacere delle tematiche Sergio Morisoli lei come lo vede come lo sente è tendenziosa o non è tendenziosa sta RSI nel trattamento dell'informazione politica ma buonasera bisogna schiacciare qualcosa va bene ma io comincerei a dire che è un falso problema per di chiedersi se la TSI o la RSI è tendenziosa o no certo che lo è deve esserlo in azienda dello Stato ha un mandato pubblico e di proprietà dello Stato si finanzia attraverso un modo praticamente obbligatorio poi se sarà una tassa o quanto sarà fa poca distinzione in questa sede certo che di parte l'errore di questa di questa struttura siamo mai a credere di non volerlo essere ad ogni costo e contro ogni logica a me non dà fastidio una tele pubblica dello Stato che faccia un certo tipo di informazione quindi quando noi pensiamo se è tendenziosa o meno posso collegarmi benissimo a quello che diceva Retoceschi se io non sono ancora così vecchio ma più o meno quasi 25 anni che abbazzo con la politica cantonale in un ruolo o nell'altro e quindi che coi media quindi probabilmente il cittadino casa che vede me ma anche altri colleghi dice è una visione questa però volevo dire quello allacciandomi a quello che diceva Retoceschi è è certamente vera una cosa quando la TSI o la radio ci chiama a dibattere è certamente equidistante non ho mai visto negli ultimi 20 anni trasmissioni dove ci sono sei socialisti contro un leghista tre liberali cioè se vogliamo ragionare in questi termini la televisione la radio è molto attenta a questa distribuzione a volte fin troppo io penso che il giudizio del cittadino sarebbe assolutamente deviante ma assolutamente insignificante se dicesse che è tendenzioso per questa ragione sarebbe nella disonestà totale perché quando vado 60 minuti ma quando si andava anche a Sassi Grossi quando si andava da Fabio Dozio non c'era mai una distribuzione voluta pilotata dall'altro con chissà che complottismo di avere lì nello studio una maggioranza di un certo tipo poi certe volte come tutti siamo umani poi si sbaglia magari si ha più simpatia invitare uno o l'altro ma comunque se ci fosse la regola perché essendo un'azienda di Stato essendo un'azienda gestita in questo modo non nascondiamoci dietro un dito c'è la lottizzazione nei posti c'è la lottizzazione a cosa andare a filmare intervistare c'è la lottizzazione in chi far venire in tela a parlare di politica ci mancherebbe altro è nel DNA di un'azienda così non può essere diversamente allora come si fa a farla diventare una virtù anziché un peccato questo perché questa è la sfida cioè non è quella di avere un ente amorfo che deve assolutamente adeguarsi formarsi avere giornalisti senza opinioni una struttura che va bene tutto al contrario di tutto perché quello sarebbe il mandato pubblico e sarebbe la neutralità ma scherziamo allora io dico sì è volutamente tentenziosa forse ha bisogno di essere corretta su questa tendenziosità perché l'ho detto è di proprietà statale quindi non è una teleprivata ma sarebbe veramente artificioso per non dire disumano pensare che chi fa la tele o fa la radio sia diverso da chi sta fuori cioè quello che noi vediamo è che passa sullo schermo esattamente quello che siamo noi dall'altra parte in fondo poiché non ci piaccia quello specchio magari può anche essere vero ma cosa vuol dire che forse interpello Maurizio Canetti no voglio finire una cosa velocemente se io guardo l'azienda c'è qui il direttore c'è qui un responsabile dei programmi ma lo direi anche se ci fossero altre persone di quell'azienda sull'arco degli anni tu ti imbatti in giornalisti veramente non professionisti faziosi e anche volutamente che senti l'odio quando ti mettono il microfono davanti perché non corrisponde alla sua forma mente lo vedi lo noti e lo senti è una rarità ma ci sono in TSI c'erano qualche anno fa alcuni circolano ancora e purtroppo sono anche giovani ancora adesso nei corridoi in chi ti intervista e questo c'è ma non è quella la TSI non deve essere giudicata su quello se ci alziamo di un livello c'è una dirigenza che è un po' faziosa ma per la logica che forse quelli che vorrebbero essere lì non gli interessa andare lì e quelli che sono lì sono quelli invece che vanno lì a lavorarci perché c'è anche questo sul mercato del lavoro quindi ma non è una faziosità di destra e sinistra è una tendenziosità forse di voler correggere un po' il mondo fuori grazie a questo strumento potente che è l'informazione la comunicazione e quant'altro quindi sentirsi investiti di una missione tra virgolette politica facendo tele facendo radio ma senza avere il coraggio fino in fondo di mettersi su una lista farsi votare poi vedere se il mondo riesce a cambiarlo come tu vorresti nella dirigenza ci può stare questo e c'è se mi sposta in cima la dirigenza a una direzione scompare la dirigenza della TSI fosse stata all'epoca del blazer remigioratti palestra adesso canetta neanche picchiarmi a sangue mi farete dire che si ritrovano lunedì mattina per farla pagare a qualcuno fuori nel paese per impostare un'informazione o dei dibattiti politici per avere uno scopo che sia questo il massimo che non si riesce a trasmettere poi dalla dirigenza questa giusta equidistanza questa volontà ha un apparato colossale anche grande dove ci sono gusti e non gusti dentro per cui certo che è tendenziosa è logico che sia tendenziosa abbiamo capito il punto Sergio Morizzoli adesso lasciamo Maurizio Canetta rispondere e resti troppo liscia senza angoli troppo impegnata a equilibrare talmente tutto che perde di sostanza ma dunque buonasera innanzitutto allora l'equilibrio in tutte le parti del nostro lavoro che riguardano la cultura l'intrattenimento l'informazione è uno dei caposaldi del nostro lavoro ora equilibrio non vuol dire smussare gli angoli per dire no non disturbare il manovratore o non trattare temi che possono suscitare problemi equilibrio vuol dire permettere al pubblico di avere gli strumenti per formarsi un'opinione su un tema su una situazione su un personaggio su quanto viene trattato quindi se l'equilibrio è vissuto come prudenza è evidentemente una note negativa l'equilibrio deve essere vissuto e questo è il nostro tentativo come una modalità per ripeto dire e dare al pubblico gli strumenti corretti per essere informato per prendere decisioni per dare giudizi dove non capisco benissimo Morisoli è in questa sua percezione quasi da medium dell'odio addirittura ha parlato di odio di persone che gli mettono un microfono per ottenere le risposte perché sinceramente questo significa che c'è qualcuno che è venuto da te con un sentimento talmente forte di odio da farlo percepire nella mano che teneva il microfono ma questa con tutta onestà è una sensazione tanti anni fa tanti anni fa un politico famoso ai tempi io ero giovane disse in una direttiva di un partito importante vedete come è tendenziosa la RSI quando Canetta a Parigi commentava le elezioni francesi in cui vinse Mitterrand gli brillavano gli occhi e io pur essendo giovane discutendo perché poi lo incontrai evidentemente quel politico gli dico complimenti perché ha una lettura del non verbale addirittura degli occhi attraverso il teleschermo c'avevo pure gli occhiali non è così semplice un po' tanto molto molto sviluppata io credo che quello che diceva Farinelli c'è un rischio nella valutazione dell'atteggiamento di fronte a un tema così importante e così nel quale gli schieramenti sono molto forti ed è il rischio tifo cheistico tifo calcistico non c'è un tifoso dell'Ambri che non pensi adesso magari generalizzo come viceversa del Lugano che la redazione dello sport della RSI è lì per far da male o per non parlare bene del Lugano e viceversa perché gli occhiali di partenza sono quelli del preferisco vorrei desidero la conferma del mio essere del mio stato del mio pensiero quindi questo rischio di appunto partire da una posizione già schierata che chiede conferma di quel che lui pensa è insito nelle domande che vengono poste in questi sondaggi bisogna andare poi a capire ancora il sotto sinceramente non credo che l'odio mi sembra una parola grossa onestamente Sergio possa essere definito dentro qualcuno dei miei colleghi e delle mie collaboratrici e dei miei collaboratori proprio perché se fosse così e se il sottinteso è ma te lo chiedo siccome appartengo alla destra non capirei certi risultati elettorali perché dobbiamo metterci d'accordo o la radio televisione è un media che condiziona potentemente l'opinione pubblica o non lo fa quando fa comodo lo fa poi quando non fa comodo no ma in fondo non è proprio così perché se fossimo schierati da una parte sola che in genere ci viene rimproverata e quella della sinistra o del centro-sinistra non capirei o non siamo deboli o questo paese a altri pensieri altre modalità di pensiero e l'ultima cosa che vorrei dire a me mi interessa molto di questa analisi soprattutto la riflessione su e forse chiedo scusa il modo di presentare la politica il dibattito politico che suscita questa lontananza a me preoccupa di più che non la riflessione tendenziosi no la lontananza del pubblico dall'argomento politica e quindi anche dalla RSI a parte che i risultati di ascolto dei dibattiti e delle trasmissioni legate alla politica sono generalmente buoni rispetto alla media delle reti e dei programmi che noi facciamo quindi questo secondo me è il punto dal punto di vista di quel che porto a casa da questa inchiesta sondaggio che mi serve di più e che mi interessa di più ma allora questo equilibrio uguale strumento dato strumento democratico Ivo Dürich condivide questa questa definizione data da Canetta o equilibrio potrebbe voler dire noia mancanza di sostanza no non credo equilibrio comunque è un è stato usato nel sondaggio è già secondo me una parola che può avere delle sfumature molto differenti per cui potrebbe anche diciamo essere una terminologia che non è così appropriata no volevo riagganciarmi alla questione democratica ma soprattutto alla questione di far capire i cittadini attraverso un format adeguato quello di cui si sta parlando che secondo me è uno dei temi importanti io adesso vi parlo come diciamo fruitore da una parte della televisione e come poi partecipante alle trasmissioni quello che io ho notato partecipando alle trasmissioni è che effettivamente a volte non siamo in grado né noi come politici ma neanche a volte i moderatori perché sono anche condizionati da chi hanno lì poi seduto penso che insieme non siamo in grado di dare una visione sufficientemente oggettiva e anche tecnica da parte del giornalista che dovrebbe secondo me presentare inizialmente in maniera molto più tecnica la questione al cittadino ecco per cui credo che c'è da questo punto di vista da migliorare molto ma è una critica anche verso di noi politici che ripetiamo la stessa discussione che abbiamo già fatto nelle camere del Parlamento veniamo chiamati magari in televisione abbiamo discusso di un tema tra di noi più di una volta e siamo lì e per forza abbiamo lo stesso schema che avevamo quando eravamo nella sala del Gran Consiglio o della Commissione e nella trasmissione continuiamo questa modalità e il giornalista in quel senso lì non è capace di romperla dovrebbe romperci lo schema parlamentare che abbiamo e lì magari ci parliamo addosso davvero però nel Parlamento possiamo farlo perché siamo lì tra politici ecco allora questa rottura secondo me potrebbe provocarla il giornalista e secondo me è auspicabile perché così ci spiazza allora prima di far reagire forse Reto Ceschi su questi punti volevo dire una cosa che mi è venuta in mente in base alla questione perché se parlato di trasmissione si parla di trasmissione politica ed è chiaramente legato alla destra e alla sinistra voglio chiedere a chi ha fatto lo studio così almeno ecco ma il fatto di aver avuto un mattino che dipinge di rosso la RSI sistematicamente ogni volta che ne parla non può avere in qualche modo anche fatto passare un messaggio che quando si parla di politica la trasmissione è in qualche modo marcata o tendenziosa perché io tendenziose sinceramente non le trovo piuttosto bisognerebbe fare passare di più il messaggio grazie prima Paolo Beltraminelli quando ho provocatoriamente detto equilibrio uguale strumento quindi uguale noia l'ho visto un po' ridere reagire reagisca forse adesso buonasera a tutti grazie per l'invito certo allora io vorrei focalizzare alcune cose sono state dette il grosso problema della RSI è che il canone è obbligatorio ci sono tre cose che scaldano i ticinesi l'SSR RSI i premi di Cassa Malati e l'attività dello Stato perché tutte e tre sono legate a dei pagamenti obbligatori il canone è obbligatorio il premio di Cassa Malati è obbligatorio pagare le tasse è obbligatorio quindi il concetto di NUMA PAGUM sicuramente noi vogliamo che i nostri soldi vengano utilizzati come meglio piace a me e quindi se non sono malato il premio di Cassa Malati sarà sempre troppo caro e siccome per fortuna i malati sono pochi la ferocia contro le casse malati che prelevano dei premi troppo alti è molto grande e la stessa cosa è l'SSR siccome siamo tutti tifosi in questo senso il Ticino è tifoso da sempre al punto che il proporzionale è stato imposto dalla Confederazione perché ci prendevamo a scoppiettate di fucili non è stata una scelta politica noi siamo di principio non proporzionali siamo tifosi il concetto nello sport hai fatto bene Maurizio dirlo ombri lugano è evidente quando c'è il commento del derby penso che sia uno dei compiti difficili di chi sta facendo il commentatore perché qualsiasi parola che dice è giudicata è o è troppo filo lugano o è troppo filo ombri quindi oggi è aumentata la polarizzazione e quindi tutti vogliono d'altronde parliamoci chiaro oggi il modo di informazione sta cambiando in modo rapidissimo io sono presente sui social vedo Bingo Bang che è presente anche lui io qualsiasi cosa che scrivo ho i miei tifosi che mi dicono bravissimo e so che ce n'è una serie che qualsiasi cosa scrivo mi tirano fuori altri argomenti per dire che comunque non stanno dalla mia parte e d'altronde lo sappiamo oggi l'evoluzione nella comunicazione anche politica soprattutto negli Stati Uniti c'è gente che riceveva solo informazioni informazioni a favore di Trump e si leggeva questo tipo di informazioni o solo informazioni a favore di Clinton e dall'altra parte solo cose contrarie all'avversario perché oggi l'informazione tu la fai sempre più personalizzata e quindi rispondendo l'informazione generalista a poco sale perché ognuno di noi vuol sentirsi dire quello che vuole sentirsi dire quindi l'informazione equilibrata aspettiamo quello che dice il mio e speriamo che lo dica nel modo più forte possibile affinché io mi ritrovi in quello che dico la mia considerazione è questa oggi l'informazione gratuita è sempre più diffusa oggi le mie figlie non faccio fatica a dirlo si informano tramite Facebook e lengono in 20 minuti due vanno all'università una fa la seconda liceo e non è che sono fuori dal mondo e quindi oggi sempre più gente dice ma perché io devo pagare che l'informazione twitter twitter dice delle cose interessantissime articoli di giornali di altissimo livello tutto gratis e quindi sarà sempre più difficile soprattutto passando da un monopolio perché di regola era un monopolio soprattutto sul territorio svizzero è vero che c'era la concorrenza dall'italia ma era un altro tipo di concorrenza alla competizione se ci mettiamo anche il disagio dei giornali oggi oggi è stato licenziato il corrispondente del del per il Ticino oggi questo tipo di difficoltà dei giornali è sempre più presente e quindi oggi lo spazio viene cercato la SSR viene ancora vista come un luogo comunque privilegiato allora prima di tornare mi permetto di interrompere prima di tornare o prima che la RSI si faccia divorare da Youtube Google e altri social Retoceschi vuol dire che alla RSI a Comano si fa una politica non abbastanza incisiva e che dovrebbe forse svegliarsi è una cosa che ho sentito da più parte ho sentito delle cose delle contraposizioni in un certo senso vari politici anche qui presenti dicono io vorrei essere messo più più attaccato essere messo dinanzi alle mie contraddizioni forse sei mesi fa dicevo il contrario di quello che dico oggi avere un giornalista che me lo fa notare e d'altronde si rimprova alla RSI anche di fare troppo io trovo che proprio non è vero ma di fare troppo il si parla addosso è la piattaforma dove si parla addosso quindi dov'è il giusto migliore come situarsi come fare contenti tutti è impossibile fare contenti tutti ma approfitto con la parola per dire due altre cose e poi risponderò alla domanda come fanno di solito quelli che partecipano ai dibattiti e semmai gli diciamo che non hanno risposto alle domande quello lo facciamo anche se siamo molto morbidi allora Morisoni parlava di tv di stato vorrei che sgomberassimo questa definizione dalla discussione di questa sera almeno dal punto di vista del concetto tv pubblica io ho conosciuto paesi dove c'era la tv di stato sicuro che facevano un altro lavoro facevano un altro tipo di lavoro la tv di stato cioè non c'era il dibattito non c'era il confronto c'era una linea che veniva dettata non dai dirigenti della televisione ma a livello molto più alto e poi c'era un'applicazione quindi è una tv pubblica che cerca di appunto permettere il confronto e favorire il confronto fra le varie opinioni sensibilità che ci sono nel paese secondo punto proprio di dettaglio l'invito a a sentire voci che non siano solo ticinesi ma lo raccolgo vedo qui Corrado Varenco che quando era corrispondente a Palazzo quando per anni ha fatto i dibattiti di politica federale ha chiamato decine di politici federali che in grado di esprimersi in italiano che hanno anche arricchito e continuano ad arricchire i nostri dibattiti a volte irritano tantissimo irritano più dei politici ticinesi ma questo vabbè è anche il sale del confronto politico quindi questo una linea che non abbiamo tracciato adesso e che continuiamo ogni volta quando c'è un rinnovo delle Camere federali una delle prime nostre preoccupazioni è individuare tra i nuovi eletti quanti sono quelli in grado di esprimersi in italiano in un dibattito o in un'intervista e ogni quattro anni c'è qualche sorpresa anche se i numeri sono molto bassi ma colgo l'invito di Ivo Durish a rendere il formato i formati della politica più stimolanti diciamo interessanti vorrei anche però sgomberare il campo da un dubbio non è che ogni settimana ogni lunedì sera facciamo il circo la compagnia di giro dei sei partiti definiamo così dei sei partiti rappresentati come gruppi in Parlamento vengono in televisione e parlano per un'ora di quello di quello che sono aspetto dopo un certo tempo questo succede in altre realtà dove vediamo che ogni giorno ci sono dei dibattiti dove le persone sono sempre come noi stesse e il tema non è dato si parla di quello che sta succedendo da noi non succede è abbastanza raro che sarà successo due settimane fa ma dico a loro probabilmente non succederà più per un po' ma non per cattiveria perché cerchiamo di discutere anche di altre cose e poi c'è un aspetto molto interessante quello che diceva Durish e lo capisco quando noi ricreiamo magari la stessa giornata dell'Unione della Commissione o la stessa giornata dei lavori del Parlamento i sei capi gruppo per dire è difficile pretendere da loro che possano fare un altro tipo di dibattito certo hanno altri ritmi in televisione ma non mi posso aspettare un confronto scoppiettante perché è nella natura delle cose che questo non funziona per cui una delle mosse che facciamo delle strategie che facciamo quando cerchiamo di discutere dei temi che interessano il pubblico dei temi che toccano la realtà in questo caso ticinese o anche svizzera cerchiamo di mescolare i generi non solo politici esperti altri diciamo persone che appartengono con competenza della società civile in modo da avere un altro linguaggio loro hanno delle cose da dire non è che non hanno cosa dire hanno cose da dire anche interessanti hanno opinioni hanno passione anche in quello che fanno e confrontandosi con altri attori della società questa passione questo interesse viene manifestato in maniera maggiore e sicuramente tocca il pubblico più da vicino poi voglio dire a proposito della passione per la politica io dico quest'anno guardiamo il 17 a parte le elezioni a Belinzona che comunque sono molto importanti ma che non hanno un effetto diciamo trainante sul pomeriggio negli ultimi anni le domeniche elettorali hanno avuto dei risultati di ascolto in televisione impressionanti vi dico impressionanti da quella di quando Lugano votata da solo solo la città di Lugano c'era anche le terre di Pedemonte e anche che mi ricordo bene anche un'altra è Mendrisio ci furono degli ascolti in una giornata meravigliosa di aprile meravigliosa di aprile da 30 gradi eravamo in piazza della riforma ascolti pazzeschi elezioni cantonali ascolti pazzeschi per otto ore quando più o meno la partita era già abbastanza giocata rapidamente elezioni federali pure elezioni comunali quest'anno pure c'è vuol dire che non solo la rappresentazione interessante ma vuol dire che anche chi se vi permettete mette in scena questa rappresentazione e la professionalmente la fa funzionare ha qualche qualità e parlo di molte persone prima di andare avanti e rispondere alle altre domande per correttezza vorrei far intervenire Oscar Marzoleni che voleva rispondere a Ivo Durisch che faceva una domanda prima rispetto al sondaggio ecco i cittadini in generale votano per motivi diversi un tale o un partito oppure vanno a votare per un referendum per motivi diversi non c'è da un lato solo la comunicazione politica degli attori politici e dall'altro un'opinione già in qualche modo elaborata non so nelle cerchie familiari piuttosto che tra gli amici eccetera però è evidente che in Ticino per quanto riguarda Ticino in particolare il fatto stesso che il mattino della domenica per diciamo almeno due decenni uno dei temi ricorrenti è stato quello di esprimere critiche verso RSI e in particolare sui temi dell'equilibrio politico evidentemente può avere ovviamente influenzato chi poi ha scelto la Lega dei Ticinesi come punto di riferimento e come scelta elettorale quindi la politicizzazione evidente del tema riguardato anche sicuramente per quanto riguarda il voto sul canone è stato l'inchiesta lo ha mostrato la questione della tassa del costo eccetera per quanto riguarda il voto dell'anno scorso però è evidente che sulle questioni politiche c'è una contrapposizione nell'opinione pubblica che è anche in parte il riflesso di quello che gli attori politici fanno della comunicazione politica dominicale la polarizzazione che è evidente ha come dire poi un impatto sull'opinione dei cittadini anche in questo sondaggio allora Morisoli voleva rispondere a Ceschi tu vabbia madame la marquise il pubblico ticinese è contento i politici si impegnano i giornalisti anche sembra di sì che si possa andare avanti così senza correttivi ma intanto vorrei riassumere bene quella posizione iniziale per non essere fra intendo ritengo profondamente che un dove che è fazioso e non sia la persona giusta dirigere un'entità pubblica che abbia questa missione tanto per non sbagliarci ma come concezione come modo di fare come filosofia e quant'altro se scendiamo alla direzione regionale nostra non trovo nessuna traccia di questo per esempio nel DNA locale e nell'impostazione nell'attenzione e nel far bene il suo mestiere se mi addentro un po' di più nell'apparato ci sono queste voglie ma comprensibile umane non è un castigo per dire le cose come stanno come uno le vede c'è un po' qui un po' là una dirigenza un qualche quadro ma è giusto perché così mille persone passa figuriamoci che non ci siano dentro rappresentate anche nei quadri gente che svolge un certo ruolo e che vuole svolgere in un certo modo quei due o tre giornalisti che non sono professionisti ci sono anche quelli non sono certamente la maggioranza ma ci sono anche quelli per cui è qualcosa che ha questa forma qua quando noi chiamiamo questa l'azienda di Stato per cui è di parte perché è chiaramente in proprietà qualcuno non è tendenziosa di per sé lo diventa a sprazzi a seconda dei livelli nella quale ci posizioniamo con una differenza anche molto chiara tra l'altro la tele è di Stato Reto microfono ma ma non è la più stat non è il media più statalista che c'è in Ticino il media più statalista che c'è in Ticino il mattino dalla domenica avete già sfogliato il mattino dalla domenica penso di sì dopo oltre vent'anni quante notizie trovate non le fotografie con le donnine quante notizie trovate quante notizie trovate che non ci sia di mezzo un municipio un consiglio comunale una commissione comunale il gran consiglio una commissione del gran consiglio il consiglio di Stato il consiglio nazionale il consiglio degli stati il consiglio federale una qualche commissione provate a contare gli articoli di quel giornale e vedere se quello non è un giornale statalista ma lo è perché la Lega è un'espressione statalista di una volontà popolare l'errore della TSI è inseguire questo modello pensando di fare più clienti che la guardano se guardiamo alcuni programmi che non sono quelli dei dibattiti di cui noi vediamo che ripeto sono perfettamente in equilibrio e ripartiti con l'utilizzazione normale insomma ma se noi guardiamo altre trasmissioni quanto quanto comunque sono infarcite di interviste giuste al funzionario al municipale e quant'altro è esattamente la stessa cosa io penso che il cittadino che dà quei giudizi li dà perché in settimana vede una TSI comunque che nei suoi spazi la politica ce la fa entrare come e vede questo genere di notizia di contenuto statale in fondo che si continua a dare come se è lo Stato che muove il mondo in Ticino e basta per cui scappa la lepre evidentemente il capo ufficio Caccia e Pesca più il suo capo dipartimento che deve intervenire con tutto il rispetto poi magari anche quello della commissione abbiamo capito Morisola vorrei forse cogliere l'occasione non fare una discussione tra addetti ai lavori e forse qualcuno nel pubblico vorrebbe reagire al fatto che è vero non è vero che la RSI insegue occorre dietro il mattino della domenica al populismo di sicuro anche lei perché è costretto a farla se vuole audience 30 secondi d'orologio 42 45 per dire ribadisco quello che ha già detto Reti fra Reto la televisione e radio di Stato è altra cosa noi abbiamo una cooperativa la Corsi abbiamo un consiglio d'amministrazione anzi chi vuole la concessione cosiddetta duale con un doppio intervento Parlamento Governo sulla SSR o sono i partiti di centro-destra che vogliono mettere le mani con il Parlamento sulla concessione addirittura sulla elaborazione delle linee di programma quindi no 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 se devo parlare pronunciare una sola volta a destra o a sinistra il pubblico c'è qualcuno che vuole l'altra cosa no io non entro onestamente con piacere in questa logica in cui deve che cattivo canetta non è male sotto pessimi mi sembra una partizione tu e no stop mi sembra una partizione del mondo un po' eccessiva va bene dopo questa operazione di lifting io mi rivolgo prima al professore l'esta ha spostato un po' sì il baricentro no una volta gli anziani i giovani un po' di centrodestra gli svogliati i politici che bene o male non fanno il loro mestiere loro poverini che devono rincorrere eccetera eccetera però purtroppo mi sembra di capire che questa sua analisi quella di fondo questo suo rilievo è che c'è un 66% se ho capito bene che ritiene che la TSI è tendenziosa allora è come in politica uno è 51 0 2 sulla politica no no sono chiaro cosa vuoi non sulle altre cose che è splendida sull'informazione io ho una piccola ricetta lasciamo perdere destra sinistra siete tanti siete poco costate eccetera eccetera solo il culto della verità perché gli approfondimenti e seguire i temi costa costa degli anni forse solo noi due cerchiamo di capire poi interpretiamo magari diversamente l'intensità però la pianificazione c'è costa o non costa seguire queste cose quindi tante cose che si portano fuori sono gestite male superficiali bisogna fare la sparatina e allora lui non comincia a fare il filmato quindi il filmato mette già in difficoltà almeno su due o tre sono già in difficoltà perché vede qui vede là vede su poi c'è la domanda iniziale ecco forse è questa la critica maggiore ora non possiamo più bluffare perché non voi tutti noi perché adesso dobbiamo guardare la realtà ecco il mio augurio è che la realtà che questo è il servizio pubblico se no torniamo ai servizi pubblici degli anni 40 che hanno tutta un'altra storia possiamo risalire possiamo scrivere dei tomi questo è il vero servizio pubblico se voi riuscite a portare in avanti il discorso della realtà delle cose di evidenza puoi aiutare anche il politico a cercare di capire quali sono le priorità non tanto adesso piantevano con questi nomi sensibilità distribuire ricchi poveri questa è una missione ma una missione costosissima infatti di impegno personale ecco forse se riuscite a creare questa piattaforma aiutate il politico e soprattutto aiutate il popolo che è il vero padrone di tutti noi lasciamo rispondere Reto Ceschi chiedo un po' a tutti di stringere un po' le domande perché è appassionante il dibattuto in una battuta aiutiamo il pubblico i politici si arrangiano da soli nel senso aiutiamo i pubblici il pubblico a cercare di formarsi un'opinione il più possibile non so se ho capito bene però una cosa la raggiungo senza dubbio per fare un buon lavoro giornalistico c'è bisogno di tempo c'è bisogno di preparazione c'è bisogno di rigore c'è bisogno di andare a fondo nei dossier però c'è anche bisogno da parte di chi e non sono solo i politici da chi è toccato da certe indagini giornalistiche dal lavoro giornalistico di non enunciare dei principi generali e poi quando si viene toccati non rispondere non sto riferendo a lei fuggire da questa non si può avere il giornalismo indipendente forte eccetera e poi quando ti tocca non va più bene perché ogni tanto nella realtà anche della Svizzera italiana e anche Svizzera ai proclami poi sono seguite nelle situazioni molto più anche un po' penose un po' difficili di gestione da parte di lavori fatti ad esempio da Falò da Patti Chiari magari si riferiva anche a questo tipo di testate che fanno un lavoro maggiormente approfondito di inchiesta rispetto alle trasmissioni quotidiane però l'invito a essere a continuare a cercare fare del lavoro di qualità che necessita di tempo necessita di preparazione necessita di continuità delle persone che se ne occupano lo accolgo molto volentieri è davvero è davvero fondamentale se facciamo girare ogni giorno delle persone credo che anche anche i politici qui presenti hanno a che fare con molti interlocutori che li sollecitano molto spesso e a volte probabilmente si chiedono questo interlocutore è quello è quello che avrei dovuto avere di fronte certo non si può avere sempre lo stesso ma magari qualcuno che il dossier che affronta con loro lo conosce molto meno di un altro quindi sono situazioni che si verificano e possono essere anche degli elementi problematici sui quali dobbiamo cercare di essere molto attenti grazie Ceschi c'è qualcuno nel pubblico che vuole intervenire ma scusate non voglio entrare nel merito del mattino perché ci sono 90.000 che vorrebbero che la sua parte quindi forse se tiene il microfono un po' più quindi quindi mai sputare di piatti che si managgia questa è dura ma è secca allora quando io ho sempre collaborato in televisione forse sono una pecura nera della Lega perché sostengo la televisione perché è la mia televisione dove sono nato 70 anni fa 72 anni però quando si dice tendenzioso se accusa qualcuno si portano le prove allora lei voi vi faccio un esempio pam 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 fino adesso niente giusto? allora poi i sondaggi i sondaggi cioè in questa trasmissione voi avete fatto questo allora si discute qui fino adesso niente i sondaggi penso che tre settimane fa abbiamo avuto un sondaggio negli Stati Uniti cosa è successo? poi il giornalismo sarò molto corto il Sole 24 Ore che è il giornale tra i più potenti di economia di tutta l'Europa ha fatto un LM un bel inserto della moda su i Clinton e non hanno fatto niente su Trump e questo è molto impressionante perché è giornalismo di alta qualità quindi loro mandano un inserto pagato da loro a casa l'ho fatto vedere anche mia figlia un inserto che sostenevano una candidata poi non può avere le sue opinioni però il giornalista per principio dovrebbe essere neutro e questa è la discussione poi tornando per esempio in Italia la Rai poi c'era la Rete 2 poi c'era la Rete 3 che era di sinistra eppure ha sviluppato ha portato fuori una persona che io ho molta stima conosciuta a Lugano la signora adesso se n'è andata a Gabanelli e questo è un giocattolino e quella non l'ha guardato in faccia nessuno questo è giornalismo si è dato le dimissioni si è ritirata dopo vent'anni non conduce più non conduce più ma continuerà si continuerà però si è ritirata e basta è questo che io voglio il giornalismo però io ho avuto dei rapporti con gente della televisione cosa se volete fare probabilmente dopo tanti anni trent'anni di politica qualcosa percepisco mi muovo molto metto lì sul tavolo gli dico ti interessa questo vai io non gli dico il giornalista cosa deve fare però mi fa piacere mi fa piacere quando si vede la televisione internet per esempio l'inservizio sulla Lega a mio modo di vedere l'abbiamo discusso nel gruppo è stato molto bello perché avete parlato del ceppo di chi va a votare per la Lega non siete andati a prendere i politici è stato molto bello questo ma poi avete fatto vedere giustamente il problema del presidente che ho vissuto ieri sera a Vezia per caso il problema di mettere sui presidenti è questo e poi si intervistava la gente e la gente per strada ce n'era uno qualche anno fa in una votazione concludo qui giovane bisogna stare attenti era un ragazzo del liceo gli ha detto la votazione è per le scuole gli dice tu sai chi è Francini dicevo eh era uno che ha fatto qualcosa per la scuola concludo qui allora lascerei velocemente reagire Oscar Mazzoleni su una parola chiave al momento sondaggi sì ecco è importante sapere di cosa si parla quando c'è un sondaggio che viene realizzato qualche settimana prima di una votazione di un'elezione si hanno i mezzi pochi mezzi a disposizione i giornalisti lo sanno quelli che fanno i sondaggi lo sanno benissimo l'opinione corre velocemente spesso questo risultato viene bruciato perché ogni sondaggio è sempre un'istantanea del momento la differenza tra questi sondaggi che con pochi mezzi fatti come dire sul momento che devono fare notizia soprattutto devono fare notizia in quel momento è che appunto quando soprattutto si tratta di votazioni polarizzate bastano due o tre punti percentuali a cambiare il tutto non sono le cose che facciamo noi noi all'Università di Lausanna facciamo dei sondaggi post-referendari o post-elettorali a bocce ferme a bocce ferme abbiamo il tempo di fare questo lavoro abbiamo anche tempo di tenere conto della rappresentatività del campione molto di più di questi sondaggi come dire più artigianali e quindi questo è il tipo di sondaggio che abbiamo fatto i sondaggi che si sente parlare sono sondaggi con cinque domande non si sa bene tra l'altro chi risponda questo sondaggio è stato fatto con circa 200 domande permettendo di sviscerare aspetti molto diversi tra cui questo aspetto che non era centrale diciamo nell'attentativo di spiegare il voto sul canone semplicemente una precisazione tecnica perché c'è stata questa osservazione grazie Mazzolini una cosa interessante di questo sondaggio serio l'abbiamo capito è che risulta che una buona fetta della popolazione si sente esclusa anche dal dal dibattito dal discorso politico dal gergo politico forse lì siamo colpevoli noi giornalisti voi politici c'è qualcuno che vuole reagire a questo dato preoccupante trovo io vorrei dire una cosa io vorrei una risposta a questo perché abbiamo ancora un quarto d'ora e questo è importante non voglio dettare risposte a nessuno però non stiamo parlando fra di noi escludendo qualcuno non stiamo facendo degli errori nella dialettica nel modo di perfetto allora mi da l'opportunità di dire questo la SSL la RSI ha una grandissima sfida perché fra un po' si voterà un'altra volta sul No Billac e questo lo si sa che sarà un momento delicato molto delicato e allora quale deve essere lo sforzo quindi anche in questo senso di interessare la gente perché il sondaggio ho capito che sono vicini alla Lega e all'Udc poi però Oscar mi dice che nel Belinzonese nella Riviera sono molto critici che non mi sembra proprio terra fertile per quei partiti quindi bisognerebbe anche capire un po' meglio perché è un po' contraddittorio anche i risultati del sondaggio però al di là di quello c'è una No Billac che avanza la RSI è cambiata e sta cambiando molto velocemente quanto ho detto da Saiz l'avrei detto prima il servizio di Falodigio e discorso per una persona che guardava era molto buono per l'elettorato leghista me l'hanno detto in tanti era un servizio in cui uno si riconosceva ma guarda la Lega come sono bravi di tutti i partiti che sono stati presentati certamente il migliore questa è stata la percezione di tantissima gente che me l'ha detto dopo i tantissimi sono diecine però nel senso che io non so qui chi l'ha visto però ne ho sentiti parecchi dire questa stamattina Modem è stata interessante è stata una trasmissione di Modem sul referendum in Italia 4.15 cosa hanno detto alla fine era polarizzata la cosa che bello voi in Svizzera fate dei dibattiti equilibrati quindi si possono fare dei dibattiti equilibrati anche con un po' di sale perché si dava la possibilità a tutti di parlare però non c'è stato da parte del moderatore una scelta di campo quindi io credo che oggi il cambiamento che c'è stato nell'RSI la votazione sul canone dava la stura e la dimensione che è stata una votazione ancora di tradizione il servizio pubblico è difeso soprattutto dalla sinistra e quindi tantissimi di sinistra Ticino hanno votato a favore del canone obbligatorio dall'altra parte chi dice io devo pagare per non avere quello che voglio e quindi sono in gran parte in gran parte contrari la sfida è proprio questa di cercare e dico nei mesi manca ancora qualche mese verso la votazione Nobillac che io non la sottovaluterei di dimostrare che c'è pluralismo di dimostrare che non c'è faziosità o detto meglio si lascia spazio a tutte le opinioni in modo frizzante come hai fatto bene a dire tu Ivo Durici quindi questa è la grande sfida l'immagine non può cambiare velocemente di un SSR comunque schierata da una parte delle trasmissioni che stanno cambiando e stanno diventando sicuramente adesso ve lo dico chiaramente da quando c'è l'iniziativa prima i nostri ogni due giorni mi telefona qualcuno dell'RSI per sapere se ci sono novità sull'iniziativa prima i nostri ma cosa vuoi che vi dica non possiamo avere novità ogni due giorni per dire che non si può certo dire che non si sta seguendo i lavori della commissione che adesso è diventato l'argomento più importante del canton Ticino passerà perché passeranno tante cose concludo dicendo benissimo bisogna essere in grado di a me sembra che gli strumenti ci sono ma il lavoro da fare è quello di dimostrare la mia percezione anche come presidente del governo che c'è sempre più un equilibrio e non si può certo dire oggi che la SSR è schierata da una parte sola dell'emiciclo parlamentare allora continuare sulla via dell'equilibrio equilibrio frizzante non noioso oppure cambiare un po' la ripartizione dei pesi ascoltare un po' più i giovani che ci dicono in fondo a me la contrapposizione destra sinistra mi è completamente uguale non mi interessa più bisogna un po' ripensare questo e riavvicinarsi sul terreno vedo Merisoli che è già la destra non è d'accordo e Morisoli vabbè però non è d'accordo lo stesso però brevemente prima forse Ocaneta Oceschi ma dunque innanzitutto diciamo che a parte che i giovani è un'espressione così generica che è difficile da centrare però no giusto in generale il mondo giovanile lo dimostra anche la presenza con qualche piccola eccezione a questa serata non è interessato né a questo dibattito né alla politica in televisione né alla politica no no lo diciamo tutti per noi RSI l'attenzione forte in questo anno e mezzo che ci stavano ad Anobillag che è un punto nodale evidentemente perché lì l'iniziativa la conoscete dice semplicemente cancelliamo il servizio pubblico quindi chiudiamo la SSR poi cosa dovesse succedere in caso di non è scritto non si sa tutto da verificare però è un punto nodale allora il mondo giovanile va catturato anche ai temi della politica e della società in altro modo non qui non in televisione non in radio c'è un altro approccio noi adesso abbiamo creato per esempio attraverso facebook un sito che si chiama spam che prova a trattare anche i temi politici nelle modalità care o seguite dai giovani 59 secondi pur mantenendo il rigore e tutto quanto mentre per quanto riguarda chiamiamola l'altra fascia di pubblico non gli anziani quelli che hanno altre abitudini è ovvio che ci sono due compiti per noi fondamentali uno quello che tutti hanno un po' definito andare sempre di più già ci siamo perché la ragione saiz datemi gli esempi e vi solleverò il mondo in una convinzione verso la gente verso il pubblico di una capacità nostra di far leggere la realtà attraverso l'equilibrio rigore eccetera e il secondo aspetto sul quale lavoreremo tantissimo è quello di dimostrare con i fatti e con le persone le persone che scaldano il cuore quanto vale il servizio pubblico non solo in termini di equilibrio nei dibattiti politici in termini di i cronisti sportivi i conduttori delle trasmissioni la gente che fa i programmi questo è chiaro è il nostro compito allora c'è un giovane che vorrebbe parlare Alex Farinelli che ha qualcosa da dire ma diciamo che se io posso muovere una critica alla RSI in quanto azienda di servizio pubblico è quella di seguire un po' troppo questa così questa informazione sensazionalismo cioè dove bisogna sempre creare la notizia dove bisogna fare il clamore cioè se io penso a una trasmissione come Patti Chiari che a me personalmente non piace tanto perché spesso dipinge una realtà ben più drammatica di quello che è cioè si vede il lancio sembra che dobbiamo tutti morire perché abbiamo visto i micro inquinanti nell'acqua li abbiamo trovati chi lascia giù poi finita la trasmissione dicono sì però alla fine le tweet a post cioè questo modo di affrontare le notizie non mi piace perché l'RSI ha un grosso vantaggio rispetto agli altri media rispetto a un Corriere del Ticino rispetto a quello che possono essere le televisioni private cioè che la paghiamo con il canone e a mio avviso uno dei motivi per cui io sono contento di pagare il canone è che non deve essere un media televisivo radiofonico del web che deve a tutti i costi rincorrere gli ascolti cioè può permettersi di dire ma per amore del cielo devo fare anche qualcosa che va incontro al pubblico però io non ho la pressione di dover raccogliere la pubblicità non ho la pressione di dover sfondare l'indice di ascolto come può essere una media se in Italia io la prima cosa il mio primo obiettivo deve essere quello di dare l'informazione più chiara più corretta meno sensazionalistica ma probabilmente più utile alla popolazione e mi sembra che da questo punto di vista un qualcosina si può fare cioè se voi pensate per esempio quando ci sono lo sappiamo tutti il giornalista dice la brutta notizia è una bella notizia per il giornalista perché interessa la bella notizia non è una notizia allora pensate per esempio alla questione furti, rapine e quant'altro ogni anno più o meno c'è un periodo dell'anno in cui i furti e le rapine diventano il tema del momento e sembra quale io sono sicuro che se andassi se chiedessi a voi secondo voi negli ultimi sei anni la situazione in Ticino da quel profilo è migliorata o peggiorata la percezione è che è peggiorata se io vi dicessi che dal 2009 a oggi le rapine e i furti sono carati del 30% 30% abbiamo capito che cosa direste quindi ma questo periodo è cosa no perché giustamente sai bisogna portare gli argomenti allora io metto gli argomenti sul tavolo cioè secondo me purtroppo si è risucchiati da questo meccanismo ma c'è un po' questa abitudine a cercare il titolo a cercare la notizia anche quando non c'è a cercare anche la contrapposizione magari da dove non c'è e lì è una delle critiche che io mi permetto di fare alla RSI Ceschi una delle notizie meno sexy ma più ma prima una cosa cioè è vero che la criminalità è calata però poi quando ci sono le campagne elettorali la politica tutti i partiti tanti partiti fanno il tema della sicurezza al centro ma voi non fate politica voi fate informazione dico i politici poi mettono al centro il tema della sicurezza quindi decidiamoci se le statistiche dicono calato vuol dire che forse anche la politica deve rendersi conto che la situazione è diversa quindi non cavalcare quando fa comodo non lo dico a te in generale ma è un tema più importante per quanto riguarda Patti Chiari è una trasmissione che piace al pubblico non piace ai politici non particolarmente ha delle grandi qualità ha qualche difetto è sicuramente una trasmissione frizzante e io dico esco da questa serie dicendo che in altri formati abbiamo bisogno di essere probabilmente più frizzanti mantenendo un rigore mantenendo un rigore che peraltro voglio dire a Patti Chiari c'è perché il rigore di Patti Chiari è dimostrato dal fatto che è una trasmissione che subisce molti attacchi molte critiche perché evidentemente tocca delle tematiche delicate e raramente perde non sapreste se perde in giustizia raramente perde quindi vuol dire e gli avversari non sono Reto Ceschi non è Reto Ceschi che si è arrabbiato ma sono aziende sono diciamo persone che possono pesare che hanno anche i mezzi a livello nazionale che hanno i mezzi per intervenire quindi c'è il rigore giornalistico ci tengo a dirlo perché altrimenti io non credo che la gente il venerdì sera guarda Patti Chiari perché è divertente guarda Patti Chiari perché con un formato frizzante un po' più spettacolare rispetto alle modalità a cui la RSI è abituata ragiona sull'informazione dà delle informazioni permette un confronto tra interlocutori che è molto diretto ecco quindi non è una difesa per la tratta di Patti Chiari ma ma del lavoro giornalistico che c'è dietro questa trasmissione anche questa trasmissione Anna Viscosa vorrebbe intervenire sì io devo dire che abbiamo voluto come corsi un approfondimento sul sondaggio che era stato fatto originariamente e abbiamo focalizzato dei temi tra cui questo che è stato ricordato e un dato mi sembra che forse non sia stato è stato ben sottolineato da Oscar Mazzolini ma forse non è stato così preso in considerazione cioè quel dato sulla fiducia in cui i giornalisti e i politici erano esattamente alla pari e devo dire che non era un dato positivo cioè la fiducia era bassotta se mi concedete sia sui politici sia sui giornalisti e questo è un dato significativo cioè è un dato senz'altro importante e che probabilmente mi fa dire che qualcosa davvero bisogna cambiare nel senso che e qui gioco da ex politica se mi concedete perché da un lato i temi che voi affrontate soprattutto dico la politica sono sicuramente diventati e diventano sempre più complessi più articolati eccetera e questo è un dato di fatto e chi sta dall'altra parte spesso e volentieri non conosce non può dare per scontato tutta un'entrata in materia che voi date per scontata nel momento del dibattito e che e che quindi è un po' semire spingente nei confronti degli telespettatori che non sempre capiscono non sempre sono posizionati nel posto giusto e hanno l'informazione giusta per poter valutare con la propria testa le opinioni di ciascuno e guardate che io non mi preoccupo di parlare di destra o sinistra o di contrapposizione però un conto è la contrapposizione sulle proprie idee sul modo di interpretare le cose e un conto a tratti è la contrapposizione che si percepisce sulla realtà dei fatti è questo che dà fastidio cioè certe volte non si ha l'impressione di avere un'oggettivazione se mi concedete del contesto tale che possa apparire la differenza tra un liberale un socialista un pipidino la destra eccetera per quello che è ma i dati sono quelli e sono comuni a tutti la realtà è una sola ed è comune a tutte poi c'è l'interpretazione politica io ho un po' l'impressione se mi concedete perché ogni tanto mi ci trovo anch'io a non capire più tanto bene perché è una cifra ballerina di qui una cifra ballerina di là e a un certo punto non capisco nemmeno più io che tutto sommato dovrei avere una certa pratica di linguaggio politico allora credo che ci sia uno sforzo da fare sia da parte della politica che da parte soprattutto della RSI nel dare l'oggettivazione del contesto d'accordo in cui poi si può far giocare con grande passionalità tutte le posizioni politiche e va benissimo ma in un contesto reale è oggettivo e richiamare finisco solo e richiamare regolarmente come conduttori a questa oggettività i vari politici quindi non si può dire tutto il contrario di tutto la realtà è quella lì e poi mettiamoci tutta la passione e le posizioni differenziate politiche necessarie allora abbiamo già sorpassato il tempo di due minuti mi pare no uno soltanto Sergio Morisoli voleva veloce rispondere è d'accordo con Anna Biscosa ma paradossalmente abbastanza per non dire molto vicino poi magari ci picchiamo fuori nel corridoio però mette davvero il dito sulla piega cioè la TSI la RSI non è un qualcosa che vive di se stesso che si autodefinisce bella brutta sopra destra sinistra quant'altro ogni tanto quei politici che ci balzano dentro in un qualche dibattito quindi è finito il circo è calato in una realtà concreta in un ambiente concreto allora se oggi c'è una missione statale pubblica in questo senso proprio di mandato pubblico quindi non si può nascondere che è un investimento politico perché non scherziamo con le parole cioè se è statale pubblica con prelevato un canone ha una missione politica l'azienda non può non averla se noi assumiamo eunuchi e vedremo cosa siamo perfetti e neutri in tutto quindi ha questa missione allora se è vero questo la necessità di avere un ente del genere che che persegua questo mandato e che magari poi vinca anche la votazione sulla villa che o meno che questo è meno importante dal mio punto di vista ma che sulla missione invece di questa tele o radio è solo una quella di fare quello che gli altri non fanno dopo si possono perdere audience poro ceschi col suo 60 minuti a 2000 spettatori invece che magari 20.000 o 40.000 ma non fa niente insistete perché la missione è questa di questo momento ma vi rendete conto che l'ambiente esterno il nemico numero uno da batter non è la destra la sinistra il sopra ma è il populismo dirompente un populismo che si alimenta di nazionalismo perché non sappiamo più cosa fare su muri rifugiamoci in casa è statalista perché inoltre rifugiate in casa abbiamo bisogno dello Stato che ci salvi che ci dica cosa fare questa la tele deve far emergere non solo nel dibattito politico ma nel descrivere la realtà nei trend che stanno arrivando nell'essere critici su queste cose che stanno apparendo questo è il ruolo perché stiamo parlando di politica e tele e stiamo perdendo minuti preziosi si va bene però allora non invitate le trasmissioni che sono sempre solo minuti e minuti non si può mai parlare scusate non è una trasmissione è un dibattito pubblico ma mi sembra che è interessante quello che sta uscendo anche se la Corsi di fatto vorrebbe reagire qualcuno se la Corsi mette in piedi serate del genere io spero che anche per raccogliere qualcosa se no facciamo il teatrino la tele filmato mettiamo la cassetta l'abbiamo fatto vistiamo il formulario che bisogna fare quattro serate siamo a posto ragazzi parliamoci chiaro se c'è una tele dobbiamo coltivarla abbiamo visto quanto vale in soldi in posti di lavoro ma anche una missione ben precisa e non è quella di essere neutrale moscia di rincorrere quello che fa più audience leggere la domenica sul mattino che fanno egregio lavoro per la lega e per anche il paese l'ha fatto magari la notizia andare poi dopo con le telecamere nei giorni seguenti a vedere se è vero o non è vero e questo diventa informazione parliamoci chiaro la tele ha un'altra missione se vogliamo dargliela e possiamo dargli anche più soldi se la esaurisce il signore lì non ha ancora potuto parlare stasera io non l'ho fretta però abbiamo un orario da rispettare abbiamo una vita allora io sono Marco Cassiano purtroppo sono anche un giornalista quindi parlo un po' diciamo di parte allora io voglio raccontarvi brevissimamente un'esperienza che ho fatto durante il periodo della lotta tra borradori e giudici nel mio caffè letterario a Lugano ho invitato borradori e giudici che la mattina stesso avevano litigato pesantemente in televisione e i giornali e le televisioni erano dominate dai litigi di borradori e giudici della mattina alla sera li ho invitati col tema della era di giorno col tema dell'incontro Lugano città del futuro quindi la tematica era la città di Lugano con la condizione che non si facesse campagna elettorale beh vi posso garantire poi vi manderò il filmato che è stato fatto un lavoro per niente neutrale io non ho fatto un lavoro neutrale ho fatto come conduttore un lavoro durissimo e di parte affinché i due candidati camminassero sul binario delle opinioni sulla visione del futuro della città senza parlare della loro elezione prodomo sua e si può fare è duro è faticoso bisogna anche magari a volte tagliare la parola a qualcuno e mantenere lo seminario ma si può fare io credo che noi spettatori forse abbiamo anche bisogno forse di più forza da parte dei giornalisti e non di più neutralità per far venire fuori le cose e tirar fuori anche come dire dei nodi che finché non vengono risolti e non si risponde su quel nodo non si va in avanti questa è la mia opinione allora una RSI meno cassa di risonanza forse più forbice Farinelli voleva ancora veloce dire qualcosa ma no cioè mi rilaccio a questo una volta ho avuto una discussione con un giornalista perché secondo me io sono di parte chiaro però secondo me c'era un tema dove era stata fatta passare un'informazione errata non da parte del giornalista da parte di una persona da lui intervistata il giornalista mi ha risposto candidamente mi fa ma sai io ho preso la sua opinione poi ho preso l'altra opinione e quindi la cosa era bilanciata cioè mi sembrava quasi che il ruolo del giornalista si fosse così diminuito sminuito a quello del portamicrofono ecco secondo me questo è anche sbagliato il giornalista è giusto che se un politico dice qualcosa di crassamente falso dica no ma le cose non stanno così era un po' quello che ha detto anche Anna Biscosa prima a me non dà fastidio non darebbe fastidio questo perché secondo me quello è il lavoro del giornalista anzi penso che anche lui sia ben contento se può però c'è un po' posso capire che nella nostra realtà ci sono tante cose che giocano e certi giornalisti mi sembra che abbiano un po' paura anche di assumersi questo ruolo questo è una osservazione molto interessante a volte è una questione anche di competenza di sapere le cose naturalmente e posso dire che anche in diretta a volte non è facile però c'è anche un altro aspetto che qualche volta con i politici abbiamo discusso cioè quando qualcuno dice manifestamente qualcosa di falso un dibattito di sei persone il suo le persone che sono in contraposizione e tacciono è altrettanto grave cioè è la negazione del dibattito quindi mettiamoci d'accordo anche sul fatto che molto spesso nel confronto politico che io non trovo particolarmente aggressivo in televisione mentre lo trovo molto aggressivo quando leggo i blog quando leggo i confronti sui siti poi metti assieme gli attori e la cosa è molto più sul merito con degli interventi anche molto più più tranquilli credo che ogni tanto anche nel dibattito manca manca la contrapposizione tra quelli che hanno posizioni diverse e si sa che hanno posizioni diverse per tutta una serie di ragioni la frequentazione l'abitudine la non voglia quella sera lì di confrontarsi in maniera un po' buscolosa questo non accade per rispondere a una biscossa dipende un po' nel senso che non possiamo e non intendeva sicuramente questo non possiamo fare prima del dibattito come dire dieci minuti di pedagogia di spiegazione del tema però raccolgo il fatto che e lo facciamo spesso quando parliamo di tematiche sulla disoccupazione della criminalità diamo dei dati diamo degli elementi poi è chiaro che un programma di dibattito è per sentire le opinioni è per valorizzare le opinioni il nostro compito come giornalisti è quello di se è possibile cercare di non far dire nepporto qua e ogni tanto viene detto nepporto qua perché per debolezza nostra o per perché possono mancare delle competenze specifiche in un certo momento però lo scopo del dibattito è quello del confronto tra le opinioni io questo lo difendo perché altrimenti se ogni volta dobbiamo fermarci facciamo il punto facciamo un dibattito sui bilaterali bene o male per la Svizzera possiamo dare un milione di dati che non servono a niente c'è una discussione che è diciamo sul merito che diciamo le persone hanno i vari schieramenti politici hanno sulla base di una costruzione del loro pensiero quindi dati sì ma non pensiamo che i dati poi partendo da dati certi abbiamo un dibattito fatto diciamo secondo dei canoni molto britannici non sto pensando al Parlamento Britannico perché è tutto forché è un luogo di dibattiti britannici difatti io stasera avrei voluto anche sottolineare una cosa che mi ha sorpreso parlando con diversi di voi anche nel mio lavoro spesso sento dire alla RSI nei dibattiti politici si parlano ad osso io venendo della RTS il parlarsi ad osso da noi assume ben altre dimensioni si urlano ad osso e mi sembra che il dibattito alla RSI è molto disciplinato molto equilibrato e lì forse Dürich voleva ancora dire qualcosa no due questioni una che mi rendo conto che a volte abbiamo un livello sia politici appunto che moderatori di conoscenza magari non al livello per riuscire in qualche modo poi a fare una discussione che passi ecco una volta tanto per fare un esempio lo dicevo salendo in macchina ho fatto un esperimento e ho una trasmissione buttato una cifra ma nessuno me l'ha contestata perché non lo sapeva né il politico che avevo di fronte né il moderatore no ecco per cui è vero a volte diamo delle informazioni che ecco dopo è così invece volevo fare un altro un altro punto che un po' si è in qualche modo anche ripetuto stasera è che nel dibattito secondo me il moderatore deve giustamente lasciare parlare fare discussione ma condurla nel senso riuscire a dare un fil rouge no che in qualche modo non non obblighi poi anche il chi è invitato a dire posso parlare prendo il microfono poi finisce che chi chiede il microfono più volte è quello che magari ripete la stessa cosa due volte come Sergio non prendetela come stasera Sergio che ha fatto passare ben chiaro un concetto no ecco però perché l'ha chiesto l'ha chiesto più volte mentre invece credo che è interessante invece che il moderatore stia allerta è un lavoro difficilissimo difatti ogni tanto glielo dico quando vado in trasmissione non so come fate nella trasmissione dove sono venuto che dove si trattava sia il dumping che il primo ai nostri era difficilissima secondo me da condurre per due temi diversi è vero che avevano delle cose comuni complesse tutte e due anche dal punto di vista tecnico chi era lì non potevano tutti essere cogniti di entrambe le cose in maniera precisa finisce che cosa parla Matteo Pronzini che è un accapparatore di microfoni giustamente ma no ma è vero ma va bene e dall'altra anche vita però anche vita che nella sua nella sua modalità elegante si accaparra la platea ecco per cui lì io mi ero sentito emarginato no anche magari perché non è proprio il mio tema però ecco la scelta degli invitati che non è sempre facile magari quella sera di non cioè c'ero io non c'era nessun altro ecco purtroppo sono le 19.59 io dovevo chiudere questo dibattito alle 19.45 abbiamo già 14 minuti di ritardo mi sembra che dopo c'è un rinfresco forse possiamo continuare anche se non è qui al piano superiore un minuto veramente una cosa ma perché scusate solo perché ecco guarda il signore va a parlare ma più che volentieri ecco certo che la sentiamo comunque volevo dire alcune cose mi sembrano anche modestamente concrete che hanno le radici nel presente ma non solo nel presente che la stampa ha scritto parlata sempre corteggiato il potere non è una novità purtroppo succedeva nei secoli scorsi e succederà purtroppo ancora adesso poi naturalmente ci sono delle notizie che vengono esaltate trite ritrite ogni giorno come le ocche e altre messe in cantina due trafiletti quindi è l'informazione del silenzio questa è quotidiana generalizzata molto non svizzera faccio due piccoli esempi di notizie apparse recentemente la prima banca svizzera no la banca WBS trasferisce forse forse 500 dipendenti da Zurigo a Shafusa perché a Shafusa pagano meno l'affitto e perché insomma per speculare ecco e le famiglie che vengono trasferite la stampa trafiletto consigliere una notizia da prendere in mano e dire ma come mai dove siamo cosa succede silenzio trafiletto così tutto in cantina 7-8 FA-18 sono in Norvegia con una schiera di 200 e più tra piloti e copiloti mi sembra per due mesi se non ho letto male anche lì due righe la stampa non ci è degnata di commentarla e di criticarlo come mai dobbiamo andare in Norvegia con gli apparecchi perché è stata fatta una scelta di un apparecchio del genere queste sono le domande che deve farsi la stampa ecco per non tornare indietro comunque la mia opinione è che purtroppo chi paga comanda il menu purtroppo grazie su questa constatazione credo che no per un giovane panda in una serata del genere ascoltiamola anche se sono le 8 scusate un attimo è vero che la RSI deve far sapere quello che vuole lo Stato è vero quello che diceva il nano che ora non c'è più ovvero che la RSI è di sinistra perché di per sé lo Stato del cantonicino è piuttosto di sinistra non è uno Stato dittatoriale come potrebbe essere la Russia quindi noi abbiamo la fortuna di essere uno Stato che ritiene giusto tutte le opinioni che durante i diabetici politici fa vedere tutti i gruppi politici quindi non dovremmo fare come lui lamentarci perché ci sarebbe da lamentarsi se fossimo in Russia e la televisione facesse sapere quello che vuole il leader e solo quello che vuole il leader è giusto quindi fin tanto che la RSI non si comporta come il mattino della domenica che fa vedere soltanto un punto di vista io mi ritengo fortunata guardiamoci attorno cosa c'è non lamentiamoci balsamo sulle orecchie grazie questo è un bel finale io non ho niente da aggiungere nel senso che ci vediamo sopra e facciamo due chiacchiere davanti a un buffet offerto dalla Corsa grazie mille a tutti di essere venuti di aver partecipato di averci ascoltati anche grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti